ciao a tutti e benvenuti questa lettura per il segno della vergine questa lettura ha una durata indefinita significa che quando l'ascolterai quando la leggerai è probabilmente il momento giusto per te per sentire questo messaggio io mi chiamo lisa mi occupo di crescita personale crescita spirituale quindi questi messaggi sono dei messaggi evolutivi non sono divinatori non vado a divinare il futuro utilizzo i tarocchi per portare uno spunto di riflessione per portare magari anche una chiave di lettura che potrà aiutarvi a uscire da un blocco o a migliorare una situazione che state vivendo in questo momento andiamo a vedere tre carte per voi della vergine in modo da capire quale spunto e quale affermazione potrebbe emergere se sentite dei rumori è la mia gatta che sta impazzendo è l'ora del gioco e della corsa forse un po di fame allora per voi arriva il re di denari il sole e la principessa di bastoni quindi se qualcuno di voi in questo momento della vostra vita sta cercando stabilità sta cercando di dedicarsi a creare una situazione sicura stabile anche magari economicamente ma direi più interiormente quindi qualcuno di voi ha bisogno di sentire la terra sotto i piedi è importante con il sole trovare quelle situazioni che portino allegria e leggerezza nella vostra vita situazioni dove c'è chiarezza situazioni dove non c'è opacità dove non c'è qualcosa di appunto poco chiaro qualcosa di nascosto circondatevi di persone oneste circondatevi di persone trasparenti perché questo servirà per darvi un senso di sicurezza ma soprattutto cercate di essere onesti e trasparenti con voi stessi perché nel momento in cui nascondete voi stessi qualcosa a voi stessi è chiaro che all'interno di voi si crea un'instabilità si crea una sensazione di pericolo non è la parola giusta una situazione di instabilità non mi vengono altre parole in questo momento e con la principessa di bastoni c'è anche l'invito a dedicarvi a cose che vi rallegrano è vero che volete stabilità e voi ero che volete sicurezza ma c'è il rischio di diventare troppo pesanti anche col sole questo messaggio comunque comincia ad arrivare è importante che teniate presente le vostre emozioni teniate presente le vostre passioni e anche il gioco del vostro bambino interiore è importante da tenere in considerazione nutrite la vostra parte giocosa nutrite la vostra parte attiva perché grazie a questo creerete dentro di voi le condizioni necessarie per creare quella sicurezza quella stabilità quella prosperità interiore che state cercando poi essendo appunto un segno di terra è chiaro che questo è molto importante per voi quindi come affermazione che mi arriva e che vi invito a scrivere nei commenti perché scrivere aiuta a fissare dentro di voi ma anche a mandare all'universo il messaggio rispetto a quello che state cercando di portare nella vostra vita l'affermazione è nel divertimento e nella trasparenza io creo radici forti nel divertimento e nella trasparenza io creo radici forti spero che questa lettura possa essere utile per qualcuno di voi fatemi sapere anche questo nei commenti e noi ci vediamo presto se riesco a spegnere ciao tutti